Quando noi chiediamo, ne consegue che noi lavoriamo in un'unica decina. Che cosa noi chiediamo esattamente? Per che cosa? Noi tutti siamo un'unica decina, noi possiamo dividere le decine, in altre diverse decine, tutte connessa in un'unica decina, ma non c'è meno di una decina. Non c'è meno di una decina. Più di una decina? Può essere diverse decine, ma essi arrivano in un'unica decina. Persino se sembra che non è molto mondo, perché tutto il mondo è un unico, Kli. Così ne consegue che la forza dell'intenzione può focalizzarsi in un'unica decina, vero? Sì, sì. Così noi abbiamo bisogno di chiedere per manifestare questo? Io chiedo per la connessione, questo è tutto, dice Rav. Che attraverso la connessione sarò capace di adattare a me stesso, alla luce superiore, per il Kli, in modo tale che il Kli sia simile a luce nella misura dell'adazione, in una certa misura, e attraverso questo mi porterà contentezza al Creatore. Chi è il Creatore? Questa luce che sarà rivestita nel Kli, corretto Kli, riempie Kli, e quindi sarà felice che sarà rivelato nel Kli. Questo è il Creatore. inoltre. Ok? Ok? Ok. Ok?